Non possiamo attendere che la crisi da un lato e un'insulsa campagna antimilitarista dall'altro diano il colpo di grazia all'industria aeronautica turinese. L'investimento da 80 milioni per trasferire a Legna da Corso Marche a Caselle sarà sospeso, ma anche lo stallo dell'insediamento di cameri per l'assemblaggio degli F-35 rischia di generare ulteriore disoccupazione e impoverimento produttivo. E l'allarme lanciato oggi dal parlamentare del PD Stefano Esposito insieme all'assessore provinciale Carlo Chiama, al sindaco di Caselle Baracque e ai sindacati metalmeccanici. Secondo informazioni non commentate dall'azienda controllata da Finmeccanica, il CDA di Alenia avrebbe sospeso il programma di trasferimento a Caselle per 5 anni perché l'operatore commerciale interessato alla riconversione di Corso Marche si sarebbe ritirato. Esposito lancia un appello all'amministrazione cittadina e al governo perché intervengano con decisione. Da un'ora è interrotta la linea ferroviaria Torino-Milano in entrambi i sensi di marcia a causa del deragliamento di un treno merci nei pressi di Vercelli, lo comunica Rete Ferroviaria Italiana. Si sono subito formate code di treni in entrambe le direzioni di marcia. Alcuni treni saranno deviati e si stanno cercando soluzioni alternative per permettere ai viaggiatori di raggiungere le loro mete.